la cosa che frega sempre di noi due nei video è che lui lo vedi che è grossetto e vedi che io sono secco lui sembra un po' alto e un po' grosso, in realtà è molto alto e molto grosso e io di conseguenza sembro nano e secco, in realtà sono alto e secco, secco resta però sono alto almeno Google all'inizio, Ryanair all'inizio, vedi che i problemi sono simili perché se tu vai nella direzione giusta per creare un'azienda miliardaria anche se i settori sono molto diversi, i percorsi si assomigliano a tutto io avevo i clienti da una parte e io faccio il compagno dall'altra si chiama iperattività comunque, si chiama fame la stessa mecca di Livorno siamo in trattativa per prendere anche il piano terra moltiplicarla ancora e fare la palestra più grande d'Europa ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Fit Cash oggi siamo ospiti alla Theory Tower e insieme a me a presentare abbiamo mia moglie Irene Sagona ciao a tutti ragazzi, ancora benvenuti in questo nuovo episodio di Fit Cash allenamento per il successo nella mente del successo e oggi abbiamo qui con noi oggi andiamo ad intervistare i due grandissimi imprenditori Alex Theory e Frank Theory grazie ragazzi come state ragazzi? bene bene bene, come siete trovati? bene bene, ero ospite dei miei genitori ad un'ora da qui quindi è stato breve il viaggio a me che sei allenato? ancora no, ma sarà una delle prossime metri è un livornese che non si allena la Mecca veramente considera che io vengo da un paesino di campagna di mille abitanti a 15 minuti da Livorno però se capito ci vado più che volentieri è capitato male che eravamo molto in giro per lavoro e quindi quando ho aperto eravamo sommersi tanto che ci siamo allenati soltanto nella nostra palestra in casa praticamente e non ce l'avremmo più fatta però prima di partire se riusciamo a rifartire per Dubai quindi oggi siete qui perché voglio riempirvi di domande interessanti anche perché voi quotidianamente postate contenuti ma comunque la vostra storia non è che la conosciamo e quindi sono curioso di sapere che cosa vi ha portato ad avere questo successo sui social e da dove siete partiti e perché in fase iniziale avete poi deciso di buttarvi proprio nel settore del fitness a cosa è nata l'idea? Ah l'idea del fitness nasce perché è un'opportunità unica fitness oggi è come gli stabilimenti balneari 20 anni fa qualcuno ci sta facendo soldi ma la maggior parte delle persone non l'ho ancora capito non lo ritiene possibile pensa che le palestre siano al più il passatempo di gente che gli piace spostare la ghisa senza capire che non ci sono solo da un lato i centri personal e le palestre commerciali ma c'è un'enorme fetta di mercato di persone che vogliono centri moderni nuovi che non abbiano nulla da invidiare e centri che sono all'estero perché se viaggiate e voi viate a Dubai certo certo e i centri italiani non possono essere anni luce indietro a una minus sai gli ho detto prima prima io loro mi dicevano Livorno è una roba da Dubai e gli ho detto Livorno se la gioca con top Dubai il Tempio è una roba paragonabile a Dubai infatti ce l'ho portato mi ha portato a vedere la palestra questa qua di massa comunque è in linea con quelle di Dubai quella di Livorno sicuramente sarà molto meglio grazie tutti i posti che deve la differenza è che la Mecca è a Livorno non è a Dubai Marina certo con tutto rispetto perché Livorno è l'amore se li livornesi ma non è Dubai Marina può mancare la vista però dentro sono palestre che non hanno nulla da invidiare lato fitness perché io scendo sempre la parte wellness dalla parte fitness certo perché in Italia con i costi della corrente elettrica non potrei mai fare il gioco che fanno alcune catene dubaine dove il petrolio con cui fanno la corrente elettrica ce l'hanno sotto casa quindi la corrente elettrica non costa un cazzo rispetto all'Italia dove tu lo devi importare da Algeria a Tunisia trasformare in energia e quindi ti costa un'esagerazione questo significa che alcuni spazi wellness totali quindi mille metri di zona wellness inclusi in un abbonamento a palestre è una cosa che purtroppo in Italia fino a che non cambieranno queste situazioni è impossibile dare dall'altro lato invece la zona fitness è dove vogliamo andare a fare la differenza la nostra direzione è arrivare a avere le palestre con la zona fitness più bella del mondo certo quindi andare a creare palestre smisurate la stessa mecca di Livorno siamo in trattativa per prendere anche il piano terra per moltiplicarla ancora e fare la palestra più grande d'Europa però la domanda che volevo farti è lato business ho capito perché vi siete messi in questa nicchia ma lato personale in passato voi avete fatto qualche sport qualche attività che vi ha spinto a dire ho la passione per il fitness voglio fare un'attività nell'ambito fitness perché in passato che ne so ho fatto uno sport non lo so il motivo diciamo noi scindiamo tanto non economico ma quello più personale il motivo personale è quello che ti porta a fare imprenditoria non è quello con cui scegli il mercato correggimi se sbagli da qua ti lascio totalmente palla ma noi lo spieghiamo sempre anche all'imprenditore abbiamo consulenza il mercato va scelto in maniera analitica da lì in poi l'obiettivo che hai nella vita come ti poni alla vita a base all'imprenditoria quello di cui parlavamo prima io e te che ti hai detto ho bisogno di delegare un po' di più per stare un po' più rilassato certo e io ho detto io se mi rilasso troppo mi stresso ok ho l'effetto contrario certo ed è lì che noi diciamo sempre la parte personale ti guida verso l'obiettivo è come tu vuoi vivere però il mercato il business quello è una scelta analitica e lì te lo spiego a lui perché ha scelto il fitness giusto il mercato fitness l'ho conosciuto ormai 15 anni fa quando ho iniziato ad allenarmi 16 anni fa e ne ho visti i limiti ho capito che era un mercato che si poteva sviluppare tanto quello che ho capito poi in questi 16 anni è che il mercato del fitness non si può sviluppare da solo è un mercato che se si sviluppa da solo quindi tutte le palestre commerciali che sviluppano se stesse hanno il limite dei limiti che il mercato del fitness ti dà perché più di tanto ha un ROI che non può essere eccessivo rispetto ad altri mercati con una crescita molto più esponenziale quello che invece il mercato del fitness è ottimo è un investimento lungo termine io ai miei ragazzi dico sempre che le clean theory noi ce le porteremo nella tomba cioè saranno quello che noi scaleremo fino a 100, 200, 300, 400 ma non è un ramo aziendale dove fare exit non è un ramo aziendale dove fare uscita arriverà un momento e ci potremo in borsa ma il fitness chiede tempo e soldi fare fitness è sempre di più una leva finanziaria ci sono grandi investimenti da fare enormi cioè fare centri fitness come li stiamo facendo ora noi costa a noi il doppio di quello che costerebbe a un competitor fare una palestra commerciale ma perché ci gestiamo tutti i lavori internamente se noi andassimo a fare i lavori ad aziende esterne costerebbe 4 volte, 5 volte cioè con quello che ci ha costato a noi che l'intiori mecca ci fai probabilmente 4 competitor commerciali forse 5 ok ok ma dal punto di vista tuo personale l'allenamento hai detto sei partito ad allenarti l'allenamento è parte del mindset ragazzi cioè è ovvio e scontato che la sofferenza dell'allenamento e lo sforzo che fai quando ti alleni tutta la parte delle rinunce che deve fare un atleta anche se non professionisti per allenarsi correttamente è parte della mentalità editoriale se tu non ti sai delle gratification quindi no questa cosa non la mangio ora questa cosa non la mangio oggi non salto l'allenamento la vacanza la faccio in un posto dove mi posso allenare e stai attento a questa cosa il rischio che tu hai è che hai sviluppo una mentalità debole che poi ti porta a essere un imprenditore mediocre quindi che all'inizio fai soldi perché anche gli imprenditori mediocri per qualche anno fanno soldi semplicemente arriva un momento dove ci saranno nuove sfide arriva un momento dove ci saranno nuovi competitor e tu non sarai pronto ad affrontare i nuovi competitor quindi pensi che l'allenamento ti ha portato ad avere un miglior mindset anche a livello imprenditoriale quando hai iniziato ad allenarti da cos'hai rispinto? hai rispinto cioè voglio migliorare la mia estetica voglio diventare più grosso lo faccio per le ragazze lo faccio per acquisire il mindset a 16 anni non mi piacevo ah si piacevi? già a 13 che ero un po' sovrappeso non mi piacevo poi sono dimagrito brutalmente mi facevo più schifo che prima questo farmi schifo mi ha portato a trovare la motivazione per partire la motivazione per andare avanti la motivazione per non saltare una settimana dall'ora io da 16 anni ad oggi covid compreso mi sono allenato sempre poi con più intensità con meno intensità oggi ho una comprensione di cosa è l'intensità d'allenamento completamente diversa da quella che avevo a 22-23 anni perché pensavo di allenarmi in realtà non mi stavo allenando certo certo perché poi dopo impari ai cedimenti impari a portare il corpo al limite impari il fatto che quando il corpo non ne vuole più sapere in realtà sei a metà dell'opera impari tutta quella parte di sacrifici che ti spingono a dire ok fino ad ora stavo giocando certo certo lo stesso vale veramente diciamo che con gli anni acquisisci quell'esperienza tale da dire adesso sta andando al limite all'inizio ti alleni ma in realtà non sei al limite esattamente mentre tu Frank in passato hai fatto degli sport che ti hanno aiutato a livello di mindset io prima di iniziare la carriera imparitoriale ero un malato di sport sì eh sì inizialmente io faccio da tutta sempre ok cioè piccolino per me poteva essere ping pong poteva essere picciole poteva essere palla a volo poteva essere poi ho iniziato palla canestro in terza elementare l'ho continuata fino a che non ho iniziato con lui che non ho iniziato a lavorare insieme a lui infatti una cosa che ho notato appena ti ho conosciuto di persona che sei molto alto e dei video che di persona non ti conoscevo sembri piccolino invece quanto sei? io 1,88 infatti adatto per giocare a basket la differenza è la cosa che frega sempre di noi due nei video è che lui lo vedi che è grossetto e vedi che io sono secco lui sembra un po' alto lui sembra un po' alto e un po' grosso in realtà è molto alto e molto grosso esatto e io di conseguenza sembro nano e secco in realtà sono alto e secco secco resta però sono alto almeno che è una roba che sparisce nei video sì sì per ora ok l'allenamento che ho provato a inserirlo ho un metabolismo che è una merda cosmica cioè io non non prendo peso per nessun motivo al mondo ok brucio qualsiasi cosa di conseguenza io ho il problema opposto cioè io ho fatto questo è il problema di quelli alti anche io in fase iniziale era così quando mi sono approcciato ai pesi io ho fatto 3-4 anni dove sono allenato molto bene in palestra ma avevo preso tipo 3-4 kg certo e è arrivato il covid pensate volevo fare anche un ben fisico io a quei tempi l'anno che ho iniziato il covid l'anno del covid mi ero già preparato per tutto ma ti stai preparando veramente per far le gare ho iniziato ho iniziato la prima settimana di preparazione per le gare una settimana prima la chiusura la seconda chiusura era il destino che non dovevi fare sai che io l'ho presa così ho detto ma sai cosa ma vaffa e poi ho detto ma non è possibile hai conosciuto l'ex teori poi ho ripreso ad allenarmi poi ho conosciuto lui mi è cambiata totalmente la mente io ora ho il problema opposto ora io ho un problema alzano nel cervello che è quello che vi dicevo prima certo io ho il problema che se vado ad allenarmi mi sento in colpa perché so che non ho un fisico propenso a crescere brutalmente quindi nella mia testa mi dico se vai ad allenarmi è un limite che ti sei dato tu perché in realtà non è così se vuoi puoi no è un segno dell'esatto contrario io si se prendi ad esempio lui che a 15 anni era un 85 per 60 kg adesso è arrivato a 69 100 kg roba che se cambia il vento cambia la posizione io ero alto un metro di 85 come ora per 65 kg quando sono partito quindi se vuoi puoi no quello non c'è dubbio il mio problema è un mentale cioè se vado ad allenarmi due ore nella mia testa sei un coglione che sta andando ad allenarsi anziché lavorare perché tra 20 anni ti premerà di più l'aver lavorato queste due ore che l'esserti allenato questa è una visione totalmente malsana che non consiglio che è pessima e sbagliata ma che mi impedisce totalmente di allenarmi capisco perché io vado ad allenarmi e dico che cazzo se fosse la strenia stare produrrendo più valore per il mio futuro questo dove ha portato ha portato che ora il frank ha 26 anni ma fisicamente no 55 ho dolore alle ginocchia quando mi alzo ho ora questo microfono tenuto così io qua io ora in questa zona qua ho il fuoco fuoco io lo stesso problema perché ho fatto spalle questa mattina no io il problema perché a quanto pare un chilo di microfono in tensione mi verranno i crampi ora però ecco secondo me nei tuoi confronti io vedo una visione sbagliata nei confronti del fitness tra virgolette perché mentre lui secondo me lo prende più anche come uno sfogo personale magari dopo l'intera giornata magari di lavoro come una distrazione momentanea tra virgolette ti do ragione dobbiamo considerare qui devo spezzare una lancia a favore di frank ci abbiamo due lavori differenti dentro l'azienda abbiamo due lavori differenti il mio lavoro è guidare l'azienda nella direzione corretta vedere le opportunità coglierle e pensare come migliorare tutti i servizi che andiamo già producendo io se noi ci si allenasse insieme voi vedreste che ogni tanto mi impalo rimango lì per un minuto ma perché sono a riflettere per me il tempo dell'allenamento è un tempo dove posso lavorare perché il mio lavoro non è un lavoro che si valuterà stasera il mio lavoro è un lavoro che si valuterà tra tre mesi si valuterà tra sei mesi si valuterà tra un anno tra due tra cinque il lavoro di Frank invece purtroppo si valuta la sera stessa perché hai una molle di lavoro che deve essere consegnato ed è una molle di lavoro estremamente ampia quindi questa cosa cosa crea? crea una mancanza cronica di ore perché dovete pensare che noi abbiamo iniziato il 2024 dove abbiamo il 2023 noi l'abbiamo utilizzato come investimento di lato produttivo alimentare alimentare integrativo anche se non è ancora riuscito alla linea integrazione il 2024 abbiamo scelto di utilizzarlo come un anno di sviluppo del mondo che è in teori noi abbiamo al primo gennaio 2024 avevamo 400 attivi al 31 dicembre 2024 finiremo l'anno con 14 cavolo questa cosa ha un prezzo enorme il lato fitness di Frank sicuramente il lato fitness la secchezza di Frank giusto e poi lo dico è malsano io non lo insegno io quando parlo con i miei ragazzi o con gli imprenditori vengo a me in consulenza anche lui ha le mani ti insegno esatto il post però non è il suo problema io mentalmente ho totalmente questa cosa che se sono ad allenarmi sto prendendo una domanda riguardo alla mentalità che avete voi due io vivendo a Dubai ormai da tre anni vengo in Italia solo per trovare i parenti ho notato che la stessa mentalità che avete voi due la ritrovo in tanti imprenditori che vivono a Dubai voi stando in Italia che comunque sicuramente siete circondati da persone che non sono imprenditori perché magari nella quotidianità frequentate anche persone normali che sono operai dipendenti eccetera come avete come avete costruito questa mentalità che non è semplice da trovare in un posto come l'Italia dove gli imprenditori scarseggiano rispetto a un posto come Dubai dove vivo noi non viviamo in Italia aspetta oltre che non vivere in Italia oltre che non vivere in Italia partiamo a monte ok bisogna dividere tanto ciò che è imprenditore e ciò che è wannabe imprenditore ciò che scusa è un imprenditore e ciò che è wannabe imprenditore ok gli imprenditori veri sono rari in tutto il mondo cosa significa imprenditore vero l'imprenditore vero è una persona che riesce a creare sistemi che riescono a duplicare se stessi e riescono a essere vincenti Dubai offre tantissimi professionisti capaci che però sono professionisti capaci io avrei le stesse cose in comune con un operaio metalmeccanico italiano che con un venditore consulenze Dubai ma non per certi veri perché io mi rendo conto che noi siamo a fare un gioco che sul breve termine è meno interessante è meno libero ha dei prezzi più alti ma è un gioco che ci deve portare nel medio lungo termine a dei livelli di potere che sarebbe impensabile riuscire ad avere oggi dentro il nostro cerchio perché io non ho il potere di mettere seduto a questo divano un imprenditore a 500 milioni ma se devo andare a imparare ho bisogno di imparare da qualcuno che ha già fatto questa strada e le persone che hanno fatto questa strada in maniera corretta da cui io voglio imparare sono persone gigantesche quindi l'unica modo che abbiamo noi è un isolarci certo perché noi viviamo nel mondo theory dentro questo edificio c'è il 95% del 99% il tempo che passiamo certo e lo passiamo sempre a migliorare tra noi perché il mondo intorno a noi è un mondo che è già distante da un consulente di successo è già distante da una persona che ha voglia di fare è già distante da una persona che scambia il proprio tempo per denaro e guadagna 100, 200, 300 mila euro al mese ma figuratevi quanto è distante da persone che vogliono fare impresa e vogliono scalare e creare sistemi in grado di creare milioni di euro di utile ogni anno da reinvestire quindi utile lordo che poi viene reinvestito e diventa ebidda certo dato sconosciuto al 90% anche di liberi professionisti italiani che quando è lì non faccio utile perché abbiamo una grande ebidda che noi reinvestiamo tutto rimangono confusi però tu mi hai parlato di questa mentalità che hai adesso e hai acquisito stando in quest'ambiente ma prima di crearlo quest'ambiente quando non eri diciamo l'imprenditore che sei oggi lo sessuale per te la motivazione nell'arrivare ad essere come se oggi da che cosa ti è partita hai avuto un mentore una persona ti avrei letto tantissimi libri perché se tu ti isoli tanto ti leggi tantissimo arriva un momento dove tu inizi a vivere non più nel posto di merda in cui ti trovi ma inizi con la mente a vivere le esperienze a vivere le condizioni a vivere le fatiche e i risultati di tutti i libri che ho letto quando leggi tante biografie e vedi i problemi che aveva Facebook all'inizio Amazon all'inizio Google all'inizio Ryanair all'inizio vedi che i problemi sono simili perché se tu vai nella direzione giusta per creare un'azienda miliardaria vedrai che anche se i settori sono molto diversi i percorsi si assomigliano a tutti ok quando un'azienda ha successo fa una strada simile a tutte le aziende che fanno che hanno successo mentre quando un'azienda fallisce ogni azienda fallisce a suo modo certo se tu vai invece a studiare la vita il modo di porsi alle sfide il modo di porsi alla mentalità l'isolarsi la capacità di mettere il bene futuro davanti al bene presente perché oggi personalmente io e Frank facciamo una vita estremamente mediocre che qualsiasi professionista ha una vita migliore della nostra dal punto di vista personale certo ma noi lo sappiamo ci ho letto abbastanza biografie di abbastanza generali per sapere che se tu vuoi entrare nella storia se tu vuoi fare enormi cose se tu vuoi richiedere sacrifici alle persone che ti seguono la prima persona che deve fare questi sacrifici sei tu perché non è un caso che Alessandro Magno non è un caso che Annibale non è un caso che Giulio Cesare dormissero negli stessi accampamenti dei loro soldati non è un caso che mangiassero le stesse cose che mangiavano i loro soldati non è un caso che per tutta la durata del conflitto sono stati sul campo di battaglia mentre i generali perdenti erano quelli che stavano lontani dai propri soldati lontani dai campi di battaglia basta vedere i generali di Caporetto nella sconfitta italiana della prima guerra mondiale che avevano il loro centro di comando con tutti i comfort mentre i soldati morivano di freddo di fame al front è ovvio che per chi deve combattere quel soldato per un vigliacco che sta dentro il suo centro di comando al caldo mentre lui a partire al freddo non funziona mi rivedo molto io in questa tua mentalità quando io comunque in passato mi sono approcciato a diet allenamenti a oggi io seguo centinaia di persone online con la mia azienda di fitness e io mi immedesimo molto nel mio allievo quando entra nel mio percorso proprio perché io in passato sono stato esattamente come lui e quindi chi meglio di me può aiutarlo a raggiungere quell'obiettivo quindi capisco perfettamente il tuo ragionamento invece tu Frank cos'è che ti ha motivato dal punto precedente non so di cosa ti occupavi prima di far l'imprenditore fino a quello che ti ha portato poi ad essere l'imprenditore che sei oggi cos'è che ti ha dato quella spinta di crescere a livello mentale di metterti in gioco io non vengo da famiglia ricca né da famiglia povera famiglia normalissima due dipendenti che si fanno un culo come delle bestie in una famiglia normalissima ma a vivere una famiglia normalissima ha noti mancanze o comunque più che mancanze ha noti limiti hai sofferto non hai sofferto non mi raputo un genio io tipo faccio sempre una distinzione anche ai nostri dipendenti lui è un genio io sono una persona sveglia che come qualità rispetto al mondo mentre lui la qualità rispetto al mondo è che è un genio la mia qualità rispetto al mondo sono disposto a metterci l'impegno che ci metterebbero cinque persone palle certo io ho sempre una cosa che ho notato con i miei genitori sono i limiti cioè non che mi hanno fatto mai mancare nulla però se vai in vacanza non si può prendere quel pacchetto perché quello costa troppo bisogna prendere questo non si può prendere quella macchina perché quella costa troppo bisogna prendere questa non si può prendere quella scarpa perché quella è da ricchi cioè prendere questo io andando crescendo ho sempre portato limiti non si può prendere quella macchina perché quello è un problema ho sempre portato limiti nella vita e mi hanno sempre rotto il cazzo in una maniera esagerata capisco perché vedevo idioti idioti non avere questi limiti che i miei genitori avevano cioè la cosa nasce perché ho un enorme rispetto per i miei genitori alti e bassi per l'amor del cielo rispetto non è mai mancato però dicevo porca di quella trova quello è un imbecille è un imbecille cosmico ma non è i limiti che hanno loro e questo mi ha sempre creato una fame fame che ho messo in qualunque posto sbagliato potessi metterla ovunque nel dubbio però io ho sempre lavorato il doppio degli altri cioè la mia classica stagione mentre una persona normale fa la stagione io stagione facevo tre di lavori ok cioè in stagione facevo il cameriere in due discoteche il cameriere il pomeriggio e organizzavo eventi ok in contemporaneo a quanti anni? a 20-21 quindi e nel momento andavo all'università di economia però io fai conto che mentre facevo il cameriere in una discoteca il pomeriggio ero da un'altra parte e io stavo facendo il PR per l'altra discoteca io avevo i clienti da una parte e io facevo il cameriere dall'altra si chiama iperattività comunque si chiama fame dormivo tre ore quattro ore il minimo indispensabile però io ho sempre avuto necessità di impegnarmi più è una cosa che ho sempre avuto perché io parto dal fatto che non mi sento un gen quindi io ho consapevolezza come uomo quindi non sei un genio fatti più quello degli anni parti dalla base sei una persona normale cosa ti può distinguere dagli altri? il fatto che se tu lavori 8 ore io lavoro 16 certo quindi tu fai una settimana di lavoro io ne ho fatte due e in un anno ti doppio in due anni ti doppio in due anni solo quattro e così via e così via e così via questo dove mi ha portato però mi ha portato nel buio più totale perché scoppia il covid io scopro Netflix che non avevo mai scoperto vado in totale buio di testa dipendenza da Netflix dipendenza totale vado giù di testa io tra l'altro ritengo che social Netflix poi ritengo è fattuale rilasciando dopamina sia una tossicodipendenza cosa che non viene mai trattata ma è una tossicodipendenza esatto vado totalmente giù di testa ma nel buio cosmico riesco a ritirarmi su mi riesco a riassestare riradrizzo di nuovo l'università arrivo a meno due meno tre esami ma ero dire frustrato e riduttivo perché mi sentivo a fare un'università dove non rispettavo nessuno nessuno cioè entrava un professore e vedevo che era un idiota da qua a là che sei un idiota con una macchina di merda e mi faceva incazzare no ma non era mancanza di rispetto ai suoi confronti mi faceva incazzare mi dicevo ma io cosa ci faccio qui che non voglio questo certo però devo arrivare qua e vedevo i top della mia classe che non avevano un rispetto perché era gente che se passano per la via e uno fa il gioco delle tre carte era gente che ci cadeva era gente che cadeva dal pero e io dicevo ma che cazzo ma quello sono i top sai quando tu giochi fai sport giochi a calcio quello che fa più gol è una persona che dice cazzo è forte no in qualunque sport io vedevo questi il top che io vedevo davanti a me non avevano il mio rispetto come umani perché sono un culo come delle bestie non mai nessuno trova questo ma non avevano la mia ammirazione no i miei professori non avevano la mia ammirazione però io stavo correndo per essere come quelli che non ammiravo per prendere un bel voto da quelli che non ammiravo certo certo e non stavo più capendo un cazzo ero totalmente perso frustrato e perso per cui tu dico come ci arrivo dove voglio arrivare punto uno punto due dov'è che voglio arrivare perché non sapevo nulla a quel punto conosco lui ok che mi scoppia totalmente il cervello a che edale conosciuto 21 ma mi rompe totalmente la testa perché mi incomincia a dire che il 4% dei miliardari è arrivata in favela ma mi incomincia a raccontare tutte le storie dei miliardari che partono da zero mi incomincia a far capire che esiste una strada per i soldi che io non avevo idea di stesse perché tipo io al foffaguro non so mai perché mia papà lavorava da dieci ore mia mamma lavora da dieci ore a me poco lavoro il risultato è una roba che non mi entrerà mai in testa a me nelle sale mi ci hanno portato in tutte e io finivo sempre con la solita domanda ma come funziona che voi dite di non lavorare per guadagnare a me una cosa non è mai tornata lavori guadagni quando sono arrivato e dico conosciuto lui lui mi ha fatto capire che lavoro guadagni è giusto se lo fai nella maniera corretta nel posto corretto con le informazioni corrette con un modus operandi rispetto al mercato corretto con una strategia mi esplosa la testa moglio l'università moglio gli amici moglio la famiglia do tutta la mia vita a lui lavoro nove mesi gratis totalmente al suo culo senza fregarmi di niente secondo me lavorare gratis è una gavetta che dovrebbero fare in tanti anche io per un anno ho gestito la palestra di un mio amico che si era assentato gratuitamente e quello mi ha servito tanto perché ho imparato più cose in quell'anno lì stando da solo in quella palestra che facendo i corsi studiando eccetera eccetera ed è la differenza tra un formatore e un imprenditore esatto quando si fa ironia sul fatto che i formatori gli hanno consigli sbagliati agli imprenditori ma non è colpa loro perché non avendo fatto questa gavetta loro possono formarvi su ciò che sanno fare per loro stessi ti può vendere speranze ma se devono andare da un imprenditore a dirgli ti sistemo l'azienda è palesemente una puttanata perché loro non avendo mai avuto un'azienda non hanno minimamente idea della complessità dei problemi io un esempio faccio sempre che i formatori sono come un idraulico che ha solo un attrezzo e risolve tutti i problemi che gli si parano davanti con quel solito attrezzo uno vende copy perfetto tu arrivi con un'azienda con qualsiasi tipo di problema lui te lo risolve con una WSL con il copy un altro vende numeri perfetto qualsiasi tipo di problema che ha la tua azienda te lo risolve con i numeri un altro vende marketing online perfetto qualsiasi tipo di problema che ha la tua azienda te lo risolve con una WSL con un sito sono arrivati studenti che fanno i costruttori che fa ridere anche raccontarla che gli è stata fatta da formatori italiani una WSL ma ora se te devi vendere appartamenti a 200 300 400 mila ma mo li potrai vendere con una WSL con un video no devi fare una presentazione e chiedere il contatto fissare un alcun che venditori e avere un venditore a terra che ci vada ma per fare questo devi costruire un sistema che renda questi appartamenti diversi questi appartamenti unici che tu abbia un brand che tu non sia solo uno dei tanti costruttori di questo posto ma che tu sia una persona riconoscibile che apponendo la sua firma sull'appartamento aumenta il valore dell'appartamento altrimenti se è solo una commodity uguale a mille altri certo però questo non te lo può spiegare una persona che non fa impresa te lo può spiegare una persona che lo deve fare quotidianamente nei suoi business certo e voi come scusami come vi conoscete cioè quando è che è successo diciamo questo famoso incontro tra due e due quando scoppia il covid e la mia magica mossa di fare due volte il cameriere in due posti organizzare eventi del pr con un decreto scoppia a berare io non ho più il lavoro ottimo il covid ha cambiato la vita a molte persone dai miei genitori a 21 anni cioè il fatto che se io voglio andare a cena con la mia fidanzata devo chiedere 100 euro a mio padre è una roba che mi ha sempre distrutto il cervello è inconcepibile per me di conseguenza mi ritrovo senza lavoro e un mio amico faceva il trainer e faceva il trainer ed era appena stato assunto da lui aspetta facciamo un primo un prequel perché così ha ancora più peso quello che è successo poi in quel maledetto ottobre allora io ho sempre avuto l'idea prima di conoscere Frank che nella vita vincesse il più furbo il più intelligente il più preparato che fosse una questione di pura intelligenza la vita che se tu sei più brillante più furbo più preparato più veloce a cambiare inevitabilmente vincerai la parte di perseveranza la parte di consistency del lavoro la parte di lavoriamo 16 ore contro loro 8 è una cosa che ho visto fare ma non erano 16 erano 9 erano 10 io la giocavo su quello che era l'intuizione io non ho mai lavorato un'ora in una palestra a 26 anni apro la mia prima Green Theory facendo degli studi precisi che ovviamente non andrò a spiegare precisi tanto precisi che nonostante oggi siano passati 5 anni tu sei ingegnere si ingegnere meccanico nonostante oggi siano passati 5 anni nonostante oggi io abbia fatto decine di palestre nonostante abbia fatto la palestra più grande d'Italia la prima non l'ho cambiata in niente perché il progetto era perfetto aveva altri problemi di realizzazione ma il progetto strutturale era un capolavoro quindi io parto da una famiglia benestante ma non ricchissima come le persone pensano non sono figlio di Leonardo il Vecchio sono figlio di un imprenditore locale certo parto prendendo dei prestiti che poi ho restituito perché parto con l'ottica di dire datemi una mano a partire poi ci penso a solo certo prima apertura l'apertura va a 120.000 euro sopra ciò che avevo preventivato io a quel punto studiando la parte marketing ero arrivato a studiare Dan Kennedy mi metto a fare le prevendite questo senza Frank da solo ero da solo con carne e tu l'esperienza sul settore non ce l'avevi solo studiato avevo solo studiato la teoria perché io sono sempre partito dal presupposto che se tu hai capacità di comprensione del sistema alla fine il sistema lo riscrivi io ho sempre voluto riscrivere ogni cosa che ho fatto questo è un pro ma è anche un enorme contro che poi nella vita abbiamo pagato dopo in altri settori perché non puoi riscrivere certo mentre lato fitness apro questa realtà prima esperienza imprenditoriale persona che io mi sono laureato in ingegneria meccanica senza frequentare ok perché mi annoiavano i professori ok quindi avevo un'arroganza veramente smisurata non ero la persona che sono oggi non ero la persona matura che sono oggi ero una persona che si sentiva un genio in mezzo alle scimmie ok è sempre avuto quella sensazione di essere diverso però assolutamente un genio di essere una razza diversa da te questa è la moda è la cosa in cui l'ho trovato io quando mi sono approcciato a lui no un alieno in mezzo alle scimmie questo era come lui vedeva gli altri intorno a lui era un super dotato a livello intellettivo in mezzo a voi questo è ciò che io sono un genio e voi siete gli altri e tu l'hai percepito subito quando l'hai conosciuto è abbastanza semplice non ci voleva un genio era abbastanza semplice perché dicevo prima esperienza imperitoriale tutti mi tirano merda addosso mentre la stavo costruendo tutti dicevano no ma durerà tre mesi costa troppo poco non può stare in piedi no certo prima esperienza imperitoriale mai lavorato in una palestra apro 30 giorni e sono sovra pieno non pieno sovra pieno e il trucco qual è stato non c'è un trucco c'è un sistema esatto il sistema è il sistema io sono una persona che crea sistemi ovviamente no ci abbiamo provato sono sistemi quello che io devo creare sono sistemi crea un sistema vincente quindi prima attività dopo che te sei convinto tutta la vita che tu sei un genio gli altri sono scimmie prima attività riesci a fare abbastanza soldi al primo anno d'aprire al primo anno la seconda ok ok acquistando l'immobile acquistando il secondo immobile quindi facciamo quest'operazione non c'era ancora il covid perché ho aperto a 8 marzo 2019 quindi ero un anno dal covid io non sapevo niente ovviamente perché il futuro non lo vedo ancora certo apro la seconda apro la terza prima piccolina per fare corsi perché poi nella prima i corsi non c'erano rientrati apro la terza piccola per fare corsi ci chiudono per il primo covid io uso la chiusura del primo covid come se fosse stato uno stand by non mi preoccupo minimamente di un cazzo ma di un cazzo mi metto lì a lavorare io passo tutta la chiusura del covid a migliorare attività a comprare nuovi macchinari perché comunque l'attività aveva successo aveva soldi in cazzo quindi io la prima chiusura l'ho presa di coraggio anche perché genio e sregolatezza io mi rendo conto di avere una propensione al rischio estremamente superiore alla media e quindi per me non era un grosso problema semplicemente dovevo accenerare quando si ripartiva gli altri nella mia testa saranno depressi saranno colpiti avranno avuto delle spese personali in questo periodo che mi potevano permettersi saranno indebitati io riparto che sono un leone e infatti si riparte numeri e prendo la quarta ma la quarta era una scommessa perché la quarta era più grande della prima a un anno e quattro mesi dalla testura della prima era più grande della prima e c'erano tanti lavori da fare manutenzioni ripitturare cioè sono lavori che oggi se pensiamo a quello che stiamo facendo ci viene da ridere se io tappo un occhio a Franklin leggo le braccia lo so organizzare probabilmente in due ore tutto ciò che abbiamo dovuto fare ma a noi ci sembrava un lavoro estremo la prima volta è sempre estremo poi era la prima volta che si verniciava in altezza quindi io dovevo stare sui ponteggi dovevo aiutare i ragazzi a verniciare perché poi quando io dico che sono stato sul cap io sono stato sul cam come si montano determinate cose in teori l'ho spiegato io alle persone in cantiere perché ero in cantiere certo quindi c'era questa situazione ci chiudo e lì per me è un problema perché ho capito immediatamente che se ti chiudono ottobre la stagione prima di marzo certo è andata e la stagione è andata a quel punto dico ok mi devo tirare sulle mani non ho preso nessuna ditta per fare quei lavori li ho fatti io con i miei ragazzi cavolo ok e lì ho conosciuto Frank ma quello che dovete capire è che Frank ha conosciuto una persona che è molto diversa dalla persona che mi ha pregiato di fronte ma perché fatto le superiori praticamente da non frequentante io non andavo a scuola faccio tipo 70 80 sensori all'anno non mi frega niente niente zero nonostante questo vincevo con corsi di matematica di fisica mi sentivo validamente superiore a quelle che fossero le scimmie ingegneria non ho brillato ma me l'ho fatta senza andarci cioè io mi presentavo ai professori al giorno dell'esame e sai quante volte magari bocciavo perché avevo preparato su delle slide che non erano quelle su cui voleva il professore quindi sapevo cose che non chiedeva non sapevo cose che chiedeva non me ne fregava niente perché davanti a me avevo dei falliti certo dove sono le vostre aziende multimilionarie dove sono i vostri imperi non ci sono quindi non mi puoi insegnare a fare un impero al più mi insegni mi insegni come essere assunto alla Leonardo mi insegni come essere assunto a qui al Pignone certo ma non mi puoi insegnare come si fa in presa certo in questa situazione lui conosce una persona incattivita dalla richiusura del covid ok nervosa perché io mi rendo conto che il primo periodo accanto a lui è stato difficilissimo cioè Franco oggi è la persona che è anche perché ha imparato a gestire una persona che era veramente una testa di cazzo che è sottoscritto ma che si sentiva anni luce più intelligente più forte rispetto a qualsiasi altra persona questo poi ci ha permesso di costruire un rapporto che fosse molto intenso fin da subito perché ha dovuto fin da subito affrontare una persona che si riteneva invincibile davanti a delle difficoltà e le difficoltà sono parte della vita io le amo le difficoltà perché senza il covid oggi non avrei 14 palestri senza il covid non avrei una produzione alimentare sicuramente perché l'idea della produzione alimentare è nata nel covid per ampliare il portfoglio di investimenti dell'azienda non avrei tantomeno una produzione integratori non avrei sicuramente la edizione l'university perché non avrei avuto la mentalità di soffrire quello che ha portato nella mia vita Frank è sei un genio ma se vuoi essere il migliore devi essere anche quello che si allena di più devi essere anche quello che sputa più sangue devi essere quello che se ci si mette in gioco sta al gioco non che dice dato che sono superiore di testa posso non partecipare perché quello è un modo perdente perché il mondo è pieno di geni incompresi basta capire Tesla ma non Tesla Elon Musk la marca delle auto elettriche il vero Tesla Nikola Tesla è probabilmente l'uomo più intelligente che ha mai che è mai entrato nella terra ha inventato cose che cambiano totalmente il mondo di oggi la corrente che permette a questi fari di essere illuminati che permette al tuo computer di funzionare che permette al mondo di essere elettrificato la corrente alternata l'ha inventata Tesla ha fatto delle intuizioni dei lavori incredibili ma è morto povero giusto l'intelligenza non è tutto questa lezione l'ho appresa in due anni ma quello che fa onore a Frank è la sua capacità di stare accanto a quel genio totalmente sregolato che ero e di guidarlo è questo che ti ha colpito perché un coach ed è una figura molto importante nello sport è che io ripeto sempre ragazzi non conta quanto ti ha i cazzotti forti conta quanto ti sa far dare i cazzotti forti giusto il coach di Mike Tyson non può picchiare Mike Tyson ma Mike Tyson ha bisogno di lui per essere Mike Tyson io quando ho capito questo ho smesso di aver attritilato un miglioramento con Frank perché io do tanto a lui e gli do direzione visione e tutti i miei settori ma lui ha dato tantissimo a me perché è come se avesse aiutato il genio a prendere il controllo esatto e questo a me ha cambiato la vita il braccio destro che completa l'opera diciamo bello bello ed è cosa è un rapporto che la gente non capisce perché la gente dice sempre ma che fortuna che hai avuto Alex a trovare Frank e Frank ma che culo che hai avuto a trovare Alex io vi vi proverei a mettere sia nei suoi panni con me a destra sia nei miei panni con lui a fianco certo io vi ci proverei a far stare perché io lui va retto vi scontrate molto lui va retto ma io pure ma è naturale cioè se lui esce dalle righe io devo rimetterlo in riga se io faccio degli errori lui mi deve ritirare dritto ma la forza che noi abbiamo è che i teori Alex teori teori come concetto sono due persone e tutta la squadra che abbiamo creato non è lui non è io è un'entità che ha dietro noi due che ha dietro tutto il nostro team perché noi non siamo solo noi due molte cose riescono come io le chiamiamo il nostro team però io e lei ci scontriamo di brutta maniera molte cose riescono noi siamo sposati quei due no esatto per fortuna io mi alzo la mattina bene tutto bello tutto ma franca cantare la moglie un po' più leggera diciamo un pelo più leggera di così leggero tante cose sono ma leggero in niente in niente no comunque la cosa che ho trovato lui è stata questa che mi ritrovo in questa palestra perché il mio amico mi dice guarda c'è questo che fa le palestre se vuoi venire a verniciare a lavorare fare nulla ma paga certo mi fa sì a gusto spoiler poi non sono mai stato pagato perché non sono voluto non ho voluto essere pagato per nove mesi però vado vado a questa palestra incomincio a lavorare e trovo questo che mentre ero a verniciare come ho detto in tanti podcast mi parlava di qualunque cosa dalla fisica all'imprenditoria alla storia io salgo in macchina la mattina dopo colpo di fumile però corretta salgo in macchina la mattina dopo perché abbiamo lavorato la notte salgo in macchina la mattina dopo col mio amico dico guarda questo è mi fa sì no è tante robe no 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 perché io poi le persone le vedo io se ho se ho un'abilità che mi ritengo unico hai il contatto comunque con centinaia di persone col lavoro se ho un'abilità che ritengo unica è capire le persone e io lui l'ho proprio visto ho detto che è il snob certo sia antipatico sia arrogante sia una testa di cazzo e l'hai capito subito quella era la cosa più facile non era per niente difficile poi sull'aneddoto ti rompere la tua sede ma non era difficile cazzo trovo queste guarda che io le dico al mio amico non non mi importa nulla ma io nella vita volevo andare a fianco a lui perché questo vince ok vince 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 e da lì mi sono attaccato al suo culo la sera dopo per farvi capire perché io sono un uomo o bianco o nero hai nella vita o bianco o nero che anche come ogni pregio è un difetto esatto quindi non ho il grigio niente quindi o è bianco o è nero motivo che mi fa aver difficoltà ad andare un'ora in palestra perché per me o è bianco o è nero non hai via di me no io per andare in palestra non cominciare a far seppasti al giorno se nella venta settimana se io non vado nel nero non c'è la prendi nella via estremo per forza tutto io bisogna farlo così con lui cosa succede succede che la sera dopo lo prendo a parte e dico guarda io devo raccontare quello che vuoi fammi fare tutto quello che ti pare basta che ti sto appiccicato perché io ti ricordi cosa ho detto prima quella situazione in cui mi sentivo che non vedevo la via io quando ho visto lui ho visto un traghetto per uscire dalla merda quindi ho detto mettimi a fare quello che ti pare faccio qualunque cosa ma voglio qualunque cosa a patto che io stia al tuo culo visto quella luce di speranza ho visto qualcuno che aveva visto cose che non riuscivo a vedere certo e da lì mi sono attaccato a lui e si arriva poi in anni di tutto perché noi abbiamo passato letteralmente di tutto certo si arriva qua prima si parlava a livello sentimentale no noi due voi avete fatto la battuta su quei due ma in tutto questo riuscite anche a coltivare comunque relazioni con donne io ci sono fidanzato dall'estate prima di conoscerli ok 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 pensavo che eravate totalmente focus sul lavoro e zero vita privata no è fattualmente così infatti povera bestia però avete coinvolto magari la tua ragazza no io la vedo una volta a settimana se non una ogni due il sabato sera e lei riesce ad accettare questo tuo stile di vita si perché io ho dato un ultimatum io poi quando ho visto che il lavoro è andata così io mi sono seduto e detto la situazione è questa per me al numero uno ci sono io ok stop quindi c'è la mia vita e c'è gli obiettivi che mi sono dato ok qua non ci passa niente non c'è la mia famiglia qua non c'è la mia salute qua certo non ci sei tu non c'è lo sport non c'è nulla al primo posto c'è il mio obiettivo certo se vuoi essere un supporto a questo ci vediamo il sabato sera certo se pensi di togliermi tempo da là la porta è quella io dal mio il sabato sera ti darò tutto ciò che è in grado di darmi perché il sabato sera per me è per lei non è neanche per me cioè non è lei che è per me sono io che lo do a lei giusto e questo è un equilibrio che con noi sta durando da quattro anni da un mese quattro anni che stiamo insieme e funziona per ora ma è un equilibrio anche quello che non è semplice come quello che ho con lui è un equilibrio che comunque va mantenuto però la parte che io ho fatto chiaro cioè se mi vuoi seguire è questo io dal lunedì alla domenica tranne il sabato sera che è nove notte capisco io do tutto ciò che posso al mio obiettivo considero che io ho avuto lo stesso tuo problema però non con l'imprenditoria ma prima di conoscere Irene ero un atleta focus gare ho fatto otto anni le gare di strongman cinque anni le gare di bodybuilding e io comunque ero isolato totalmente dalla vita un po' come voi con l'imprenditoria io lo ero nello sport e tutte le ragazze che ho avuto prima di Irene mi lasciavano tutte perché non capivano che magari il sabato sera all'orario aperitivo ero in palestra dopo cena ero in palestra ad allenarmi sì io l'ho conosciuto che si allenavano le 10 di sera poi ho conosciuto lei che bene o male era sul mio stesso mindset io all'inizio facevo l'influencer e l'atleta lei comunque mi piaceva allenarsi stava con me in palestra fino a mezzanotte magari sabato sera ci siamo trovati e da lì poi siamo riusciti a scalare poi anche a livello lavorativo le gare però ecco quello che io stavo pensando serve una figura che ti supporta riguardo a quello che dicevi tu adesso che tu dici per me io sono al primo posto neanche la salute tra virgolette viene prima prima del lavoro però non è tutto un concetto di sbagliato la domanda che mi faccio io è mettendo così tanto diciamo a primo posto te e quindi c'è lo sviluppo del tuo lavoro non pensi che sia tra virgolette un peccato mettere così tanto poi al secondo posto il resto perché il ragionamento che faccio io è sì ok oggi mi impegno per avere domani quello che io desidero però allo stesso tempo io a quel domani ci voglio arrivare che io su due gambe ci sto performante che riesco a godirmi ecco questo riesco a godirmi quello che mi fa lo sanno tutti Simo come la voglio la carrozzina della rossa con davanti anche il cosino e il tecno le ruote le ruote da sterrato o triangolari che sono buone anche le stuole cingolata cingolata l'ho sempre detto a me non mi interessa per fare la fine di ogni programma col bodybuilding lo dico sempre l'ossessione di qualità sarei finito io avessi fatto quella che mi è in fisica mi sarebbe camminata per sé perché se a me mi metti in quel rabbit hole cioè in quel in quel circolo lì mi perdo perché dopo in tutto e per tutto mi perdo diventa 120 chili e appena capisco il gioco così e mi perdo per sempre no io purtroppo e non è io lo dico è malattia pura la mia cioè non è una roba che insegno o che trasmetto in maniera positiva cioè lo metto sempre come un disclaimer ai menti a noi medicinali avvertenze frank avvertenze io ho una malattia per me è lavoro 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 obiettivi per me è quell'io però e voglio allargarlo quell'io non è un io io dico sempre l'egoismo è la miglior forma dell'altruismo cioè per il mio obiettivo vuol dire che devo dare tutto il tempo che posso a lui perché lui vi darà una giusta direzione vuol dire che devo dare tutto il tempo che posso a Simo perché Simo rende al meglio possibile ad H a tutti i miei ragazzi devo dare il massimo possibile perché loro rendano il massimo possibile perché questo mi porta al mio obiettivo però è l'obiettivo è ciò che mi fa alzare la mattina è ciò che mi fa lavorare 20 ore al giorno è ciò per cui spingo è ciò per cui vivo è ciò che mi rende vivo e che mi piace che mi renda vivo certo poi io sono come il tutto bianco e nero quindi sono malato e sono disposto a tutto se non mi posso arrivarci insieme a la tele non me ne fregherebbe un cazzo la domanda che voglio farti è se tu adesso chiudi gli occhi e ti immagini il te stesso tu adesso hai 26 anni sì a 30 a 40 anni sì come immagini la tua routine e come ti vedi fisicamente il tuo stato di salute e il tuo punto di vista il tuo livello nel business allora ci sono due strade a livello di salute così la tolgo subito una che sono dottor house quindi che c'ho il bastone se va bene la seconda è che sono riuscito a affidare l'allenamento nella mia testa spero che sia la seconda perché immaginati arrivi a 40 anni magari che hai aperto 100 palestre e hai costruito un impero con Alex sei multimilionario se mi fai solo 100 palestre quando ai 40 anni ti tolgo il saluto non ti parlo più non ti parlo mille palestre a 40 anni sei multimilionario però con la salute c'è la B se sono mille c'è la B c'è la B bilionario sono già in un'altra maniera hai visto sono già in un'altra maniera esatto perché di milionari sto cazzo a vendere speranze sono buoni tutti ma la B non la metti con le speranze la B ha di mettere sul terreno dicevi però immaginati che sei multimilionario a 40 anni e però hai una salute di merda che ci fai? la paglia la risolvi e pensi di poterla risolvere dato che comunque ci ragionerò quando sono miliardati per 15 anni non hai coltivato se la domanda è postata così la mia risposta è ci ragiono quando sono miliardati non l'ho saputo anche perché perché comunque quarantenne è morto perché ha dedicato la sua vita al lavoro e io rimango nella storia come uno che è morto di lavoro miliardario ho fatto il mio obiettivo solo nella storia mi va benissimo mi va benissimo a me c'è firma se tu mi dici guarda vorrei a 40 anni mi hai fatto mille palestre questo questo rimane nella storia ti sto diranno io firmo domattina ok capisco mi va benissimo tu Alex che sei uno che si allena comunque quante volte ti alleni a settimana? sei cavolo più di me ti alleni e la dieta la segui o sei la dieta la seguo nei limiti io tendenzialmente sarei una persona veramente golosa ok quindi io ci sono cose non si direbbe dalle gallette che avete fatto ci sono cose di cui mi privo cioè per me il gelato è assolutamente privarsi i dolci sono assolutamente privarsi i biscotti sono assolutamente privarsi non c'ho il limite i biscotti potrei mangiare ci potrei mettere qua a parlare con 5 kg di biscotti e li finisco quindi io mi privo quindi la dieta per me non è perfetta perché prima di tutto viene il lavoro ok io devo incastrare il resto in un mondo lavorativo ok la differenza che mi permette di allenarmi è che io lavoro mentre mi alleno cioè se io ti faccio vedere la chat di oggi mentre mi stavo allenando ero a far vedere dei problemi al nostro responsabile Green Theory della sede in cui mi stavo allenando non ero ho fatto chiamate i miei allenamenti durano mediamente due ore ma perché ci sono 4, 5, 6 chiamate nel mezzo cioè se io mi sto allenando e arriva una chiamata di lavoro priorità al lavoro priorità assolutamente poi ritengo che gli imprenditori di questa generazione siano i generali delle generazioni passate perché se tu sei una persona ambiziosa per fare la storia in un mondo moderno come questo l'unico modo che hai per farla è fare imprenditoria è segnare la storia del tuo settore dei tuoi settori oggi voi ne state vedendo 1, 2, 3, 4 ma le nostre ambizioni sono molteplici di entrare in vari settori nei quali stiamo già e abbiamo già investito tanti soldi che non si vedono perché poi i soldi che investono in un imprenditore spesso sono silenti non sono urus che le vedi sotto il culo sono cose che sono magari dentro dei capannoni quindi dal mio punto di vista non si scinde l'ambizione di grandezza viene prima della mia vita stessa cioè se tu mi potessi dire Alex rinasci da zero fai la storia come ha fatto Alessandro Magno conquisti tutto il mondo che conosci muori a 33 anni ma rimani nell'eternità firmo domani mattina sarebbe il tuo sogno assolutamente sì rimanere nella storia anche se muori giovane per tutta l'eternità i grandi generali si rifaranno sempre ad Alessandro Magno per tutta l'eternità e a me di avere soddisfazione in breve termine quando puoi rimanere nell'eternità è un'altra cosa io mi voglio godere la vita perfetto passerà questa generazione ci saranno i tuoi figli che si ricordano come ti chiamo i figli dei tuoi figli alcuni si lo dimenticano ma i figli dei figli dei tuoi figli già non sanno chi sei se tu fai un figlio e tuo figlio inizia a fargli imprenditore che cosa gli diresti di fare? gli diresti di fare esattamente questo vale a dire spaccarsi il culo e magari morire a 30 anni o gli consiglieresti di fare l'opposto di quello che fa Frank vale a dire allenarsi lavorare e andare avanti trovare il giusto equilibrio cerci equilibrio più cresci finito ma guardate che non è che voi avete più equilibrio di me attenzione non è che chi si goda la vita più equilibrio di me ma io non mi godo molto la vita no non nel senso tu sembra ma non è che ho usato il voi nel senso diverso dal Frank esatto dittendo non è che la nostra vita non è equilibrio per fare questa vita devi avere equilibrio certo è quello che dicevamo prima a noi se ci metti se ora ci porti al mone certo ci fai impazzire io lì perdo l'equilibrio capito mi cago proprio il cazzo mi annoio mi annoio a me mi fanno impazzire le persone che mettono le storie alle Maldive a me mi devi pagare io ti mando la fattura a fine vacanza ma che cazzo faccio in un atollo 20 giorni prima mi metto a trattare l'atollo dopo un quarto d'ora 15-20 minuti e sono a fare i conti su quanto guadagno ogni camera su quanto è piena durante l'anno su quanto ha pagato per farlo su se c'è un'isoletta vicino da comprare che fai anche con te dipendenti che guarda quanti guarda quanti baretti ci sono coperti proprio i coglioni ma la vita cioè io voglio condividere con le persone la pienezza delle soddisfazioni perché noi viviamo in un'epoca dove le persone ricercano il piacere il piacere è come un massaggio è come un bel rapporto sessuale ti dà piacere in quel momento esatto ma la soddisfazione di vedere che le tue idee funzionano la soddisfazione che tutti ti avevano detto che saresti fallito che tutti ti avevano detto che era impossibile che tutti ti hanno sputato merda e la soddisfazione di entrare a testa alta e dimostrare che tutti si sbagliavano per me è meglio il rapporto sessuale ma senza dubbio qualsiasi cretino può essere certo 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 chissà che vanno mi diceva anche Arnold che per lui la sensazione di pump nelle sue braccia era superiore a andare con la donna e lui era malato infatti è diventato un campione a livello mondiale ho analizzato il libro Be Useful di Arnold bellissimo libro che spiega proprio come lui si dava degli obiettivi li visualizzava chiaramente e ogni giorno portava rispetto agli obiettivi che sarei dati è partito volendo diventare un campione lato bodybuilding lo è diventato poi è voluto diventare un attore lo prendevano per il culo per la sua pronuncia tutti dicevano che sarebbe fallito tutti dicevano che era un attore scarso gli è fregato qualcosa meno di niente è andato avanti perché il mondo è di chi ha le palle di prenderselo e noi cresciamo generazioni intorno a noi che non hanno più le palle di lottare se domani mattina ci fosse una guerra il 95% di persone di questa generazione si arrende il giorno stesso vero 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 saresti a favore alla leva militare obbligatoria o no? a livello di mindset per i ragazzi giovani a livello di mindset sarebbe positivo ci vedrai lui ci vedrai dipende dipende se fosse realmente paritaria per tutti si ok senza nonnismo non solo nonnismo ci sono cose più complicate però una leva neutrale si perché ti mostra certe parti che è giusto vedere ma quello che noi facciamo lavorativamente è né più né meno di una leva certo cioè quando tu entri dentro il teori holding anche se sei una persona brillante devi dimostrarlo col lavoro che meriti un ruolo alto però per tutti per il popolo la metteresti per il popolo la metterei nel momento in cui fosse una leva di valore ok la leva di valore è insegnare alle persone che se vogliono ottenere qualcosa nella vita non lo devono pretendere ma lo devono faticare io non avendo vissuto la leva avendo solo ascoltato i racconti molto spesso non era questa linea guida era più un tanto la dovete fare ed era diverso io vorrei passare questo messaggio fatica uguale risultati esatto possono arrivare male possono arrivare peggio possono arrivare di più perché alle volte tu fatichi 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 a volte i risultati sono più lenti di quello che ti aspettavi a volte saranno enormemente più veloci ma tu sei la solita persona e quello che devi avere nella testa è proprio che la fatica è una condizione sine qua non del successo ne può servire di meno ne può servire di più dipende quanto sei brillante ma l'equazione della brillantezza sommata all'equazione della fatica ti dà certezza di arrivare io ho certezza che arriveremo al biglio ma non perché mi ritengo come facevo 4 anni fa un genio infallibile no perché mi ritengo un genio capace di capire il mercato intorno a lui capace di cambiare direzione velocemente se si rende conto che la direzione non sta andando come preventivato e soprattutto perché se gli altri che vogliono arrivare lassù lavorano 8-9 ore al giorno noi lavoriamo 12 nel mio caso 13 nel suo 15 16 certo 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 secondo voi arriverà mai il momento in cui mollerete un po' ma io mi diverto oppure sei convinto io godo proprio sì no però dico c'è un momento in che vi immaginate della vostra vita che ne so 40 anni dove dici voglio arrivare lì e costruirmi che ne so una famiglia no è per dire se tu dici mi dedico comunque 100% al lavoro e comunque la fidanzata la vedo che ne so una volta ogni due settimane non posso fare un figlio domani perché non posso avere un figlio una volta ogni due settimane non ci ha capito se ti voglio rire in base a quello e poi esatto devi aumentare lo stile di vita quotidiano io su questo batto tantissimo odio il concetto di vacanza la vacanza è una pillola che tu ti metti in gola per digerirti la tua vita di merda esatto la vacanza è una pillola che ti metti in gola per digerirti la vita di merda che hai scelto che hai sviluppato e che stai facendo quello che devi fare è lavorare sodo per sviluppare una vita che sei contento di vivere perché il viaggio è oggi il viaggio è oggi quindi sviluppare una vita che sei contento di vivere che ti dia soddisfazione perché l'essere umano non è evoluto io sono un grande appassionato alla storia dell'essere umano l'essere umano si è evoluto per soffrire si è evoluto per resistere non è diventato la specie dominante solo per l'intelligenza ma per la sua capacità di resistenza alla penuria di cibo alle temperature alte alle temperature basse alla sofferenza se tu godi troppo nella vita ti deprimi ti deprimi perché il tuo corpo la tua mente non è fatta per avere solo stimoli positivi e andrà a cercare problemi e alla fine di tutto alla fine di tutto c'è un macro problema che io e te dobbiamo sempre affrontare arriva un momento che si muore la morte spaventa molto di più chi sta bene rispetto a chi sta male la morte è un nemico atroce di chi ha vissuto una vita morbida perché se tu vivi una vita come se fossi in un cassi cartone disney se tu vivi una vita con morbidezza senza guerra senza fatica senza sofferenza senza pienezza perché vivere vuol dire anche vivere queste pienezze arriva un momento che ti senti di aver sprecato io vi sfido anche voi che state guardando a dirmi cosa stavate facendo a marzo del 2022 marzo del 2022 cos'era? marzo del 2022 era un mese stupido come tanti altri eravamo aperti che si faceva noi? nel 2023 nel 2022 eravamo a Dubai sarà Dubai che si lavorava chiusi in casa nella gestione dei clienti come un ciugno esatto e mi preparavo per le gare addiata esatto e chi guarda avrà dei ricordi vaghi io marzo del 2021 lo ricordo perfettamente ricordo perfettamente tutti i test dei galletti ricordo perfettamente tutto lo sviluppo di quel laboratorio senza avere una cultura alimentare sufficiente a sviluppare un laboratorio che facesse cose complesse che poi abbiamo migliorato continuamente inizialmente servivano tre persone per fare quello che oggi fa una persona ma l'abbiamo imparato facendo io quello che voglio dire è che una vita passata nei campi di battaglia moderni che sono quelli dell'imprenditoria è una vita che è sicuramente faticosa ma è una vita vissuta io se tu mi dici gli ultimi quattro anni è come se ne avessi vissuti i quindici se io ti dico gli anni che vanno dai miei vent'anni ai miei venti sei mi sembrano passati così è come se non avessi stretto niente quello che ti diceva con la domanda del mese è che se a me lui chiedi 2017 questo mese io non so che cazzo stavo facendo se tu mi dici marzo 2022 io ci ho arrivo del miscelatore ci ho 100 pagine di copie uno shock di cose in quel momento inaspettate magari perché quando vivi la vita a questo ritmo te la ricordi ogni mese è infinito ma io l'altro giorno stavo ragionando a una cosa che era successa tempo fa dicevo no vabbè sarà due anni fa è successo quattro mesi fa due o quattro mesi cioè quando vivi la vita così intensa con così tante ore è infinita e te la ricordi però ti rimane se te invece fessi la vita te la scollare sul telefono andare all'aperitivo andare a cena aspettare la vacanza non ti piace il lavoro che fai finisci che non ti ricordi un cazzo e non hai vissuto hai passato il tempo un ragazzo che lavora con me che mi gestisce il marketing dice che la persona normale che tra virgolette non vive una vita piena di impegni dove si crea il proprio futuro quotidianamente con delle con delle cose nuove che costruisce come potete far voi finite le scuole è come se mette il cambio automatico fino alla tomba ma è fattuale è questo vivono vite di merda perché fanno la vita diciamo vite di merda che loro sanno essere vite di merda che non è gestita da loro stessi ma è gestita da un capo e loro fanno quello non è solo lavorativa e vivono per la vacanza e vivono per la vacanza è lì il problema se a te lavori otto ore al giorno e fai un lavoro di merda che non ti piace tu stai buttando via considerando che tu dormi otto ore quindi ne vivi sedici tu il cinquanta per cento della tua vita lo passi a fare una roba che non ti piace certo e critichi me che ne lavoro sedici adorando il lavoro io adoro il cento per cento della mia vita e ne vivo anche più di te dormendone di meno poi scelta personale io tu critichi me che adoro tutte le sedici ore che lavoro e te passi invece otto ore della tua vita a fare una roba che ti fa schifo aspettando quei sette giorni l'anno per andare in vacanza col conticino preciso che posso spendere ottantasette euro e cinquanta al giorno che mi sono risparmiato fino ad oggi questa è una vita che io non apprezzo e non consiglio ma non è la vita da dipendente non è la vita con un capo quella è un'altra cosa io non apprezzo la vita passata a non godere cioè io vado come un basterdo a fare questa vita devi decidere quello che ti piace fare nella vita è coltivare esatto che sia una qualsiasi cosa che sia la mia malattia la sua malattia il vostro modo di vivere una mamma fa il pizzaiolo ma come anche quelli che comunque arrivano al fine settimana e magari si distruggono ma perché si non distruggono di alcohol discoteche e robe perché sono esauriti dalla vita di merda che fanno dall'unio al venerdì l'università dal lunedì al venerdì arrivavo al sabato avevo un focus solo io venerdì sera scoccavano le cinque avevo un focus solo io serata basta ed ero presidente di quel partito lì ho fatto un candidato di serata e fuori all'universo per quello anche che capisco che è un modo di anestetizzarsi il cervello se tu arrivi proprio al venerdì sera che dici io ora vado mi diverto con i miei amici mi scordo tutto io per 48 ore mi scordo che lunedì vado in un'università che non mi piace a studiare roba che non mi piace a fare una vita che non mi piace con persone che non mi piacciono in un modo che non mi piacciono per avere un futuro che non mi piace e tu usi venerdì e sabato e tutte le vacanze che puoi avere durante l'anno una piccolo spoiler per scordarti la tua vita questo è un sistema malzano desideri il sabato per riuniragarti e scordarti è un sistema malzano difatti secondo me c'è poi chi costruisce una vita intorno a un lavoro che veramente gli piace fare non si rende più conto neanche di che giorno della settimana no brilila poi cioè per me se oggi è domenica è mercoledì o è venerdì dopo la differenza sono tutte uguali letteralmente c'è stata una giornata storica dove ci sono incazzati come delle bestie mi sa che era l'8 dicembre quest'anno non mi ricordo era una festività mi sa l'8 dicembre sì l'8 dicembre perché io ero a fare i miei giri normalissimi era un mercoledì un giovedì non mi ricordo io parto faccio i miei giri arrivo trovo un posto chiuso mi incazzo con una bestia non capisco chiamo un altro formentore chiuso porca croia ero furibondo era un'ora che ero in giro già furibondo arrivo in ufficio e mi mancano anche i dipendenti ma che cazzo fuoribondo mi rivolgo a un altro della mia squadra mi fanno ma è l'immacolata ma è l'immacolata ma è l'immacolata ma è l'immacolata mi hanno detto è giovedì è giovedì puttana di quella miseria è giovedì già siete a casa sabato già siete a casa domenica è per me era una roba che non so neanche da dove è uscita faccio ma cosa me lo so scordare ma che cazzo è immacolata questa però io sono il solito che aspettava l'immacolata per non andare all'università ti aspettava l'immacolata per non avere il turno da cameriere anche tu eri capito e però avendo le viste tutte e due preferisco cento volte questa vita certo ma cento volte sono vivo e mi ricordo tutti i cazzo di giorni sì è una roba diversa secondo me saresti ancora più vivo se inseriresti quei tre allenamenti a settimana senza bravi dubbi ma senza bravi dubbi però ci riusciremo a convivare ma guarda ora vedrete come mi alzo il divano il podcast diventerà cliente ora voi mi vede di alzare dal divano dopo e capite cosa vuol dire comunque adesso siamo in fase di chiusura del podcast e voi non lo sapete perché questo podcast non è ancora stato pubblicato online verrà pubblicato da settembre era il mese d'agosto ma alla fine di ogni puntata c'è una sfida fisica che facciamo fare ad ogni ad ogni ospite scherzante semplice semplice e poi facciamo una classifica di tutti gli ospiti di tutti gli ospiti a fine puntata io vado per l'ultimo a te vai per il primo posto una classifica focus io vado per l'ultimo al primo posto è duro ve lo dico perché il primo posto è una roba ti accelgo da quel divano e dopo ti fai una piccola cosa e vediamo se dopo sarei convinto a fare quei tre allenamenti a settimana meraviglioso però io punto tutto sull'idea io una cosa che mi stavo invece chiedendo no? perché comunque come dicevi tu questo è il vostro equilibrio e anche come dicevi sempre prima diciamo tu sei felice al cento per cento della vita che vivi e di tutte le ore che comunque dedichi al tuo lavoro al tuo business e tutto quanto quanto spesso capitano e se capitano io penso però non lo do per scontato perché mi sembrate due macchine letteralmente momenti magari di difficoltà dove cioè ti senti un attimo a terra perso o comunque che dici ho bisogno di quell'ora dove veramente stacco la testa e non ci penso perché sono fuori di me staccare la testa purtroppo se hai problemi non è mai la soluzione e il fatto che siamo in due è la chiave perché capita di avere una marea di problemi e perdere un colpo forte però io mi appoggio a lui e lui si appoggia a me e noi ci appoggiamo alla squadra che si appoggia a noi gli eserciti non erano fatti da una persona quando hai un esercito dietro tu devi essere dritto per te devi essere dritto per loro loro si sono fidati di te se loro vedono il generale in questo caso imperatore generale che entrambi se ne vanno a gambe elevate sai come si chiama questa rotta che cos'è la rotta è come si perdono le battaglie come ha fatto Alessandro Magno con 60.000 uomini scarsi si pensa perché non è che ci fossero i censimenti all'epoca affidabili tra i 30 e 60.000 uomini abbattere Dario III con 100 200 300.000 uomini ha proprio fatto questo Alessandro Magno ha fatto un'operazione di circondamento che è un suicidio quando tu hai pochi uomini e lui ne ha tanti finalizzata alla caccia della testa ed è arrivato a un cavallo di distanza da Dario III e Dario III vedendo la foga vedendo la decisione vedendo la follia vedendo la capacità di Alessandro Magno di andarsi a prendere la sua vita ha fatto quello che ti dicevo prima chi ha vissuto nell'agio ha paura di mutire ha una paura cane e si è arreso è scappato e davanti a Dario III che scappa il suo esercito si è arreso ci sono stati momenti difficili in questi anni ma l'idea di indietreggiare l'idea di mollare è inconcepibile perché è inconcepibile con gli impegni che ho preso nei confronti dei miei ragazzi gli impegni che ho preso nei confronti delle persone che si sono fidate di me quindi anziché indietreggiare e dover far fallire questa azienda io ci muoio dentro letteralmente certo quindi per me sono vivo il cuore batte il cervello gira non l'ho perso certo sì 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 ora non parlavo in ottica di fallimento ma di magari momento di un attimo di debolezza personale se tu hai un momento di debolezza personale stai dando un'opportunità a un tuo competo di entrare in quella debolezza c'è tanto così dal fallire come esercito quello che ti stava voleva passare certo in un momento di debolezza personale se lui va giù rischia di buttare giù me guardate i formatori guardate i formatori quando il capo formatore va giù di testa e ha davanti un esercito forte motivato come siamo noi nella formazione il suo mercato è già finito perché noi continuiamo continuiamo non avrà pace non avrà modo di tirarsi su perché mentre lui è lì che frignucola e si sente sto cazzo nella cameretta qua stiamo costruendo strutture oggi siete in 400 metri di struttura domani prenderemo tutto questo immobile piano piano fino a terra per poter mettere tutte le persone che servono a dare i nostri servizi perché quello che noi stiamo facendo nel mondo dell'agency di marketing che poi in realtà è business consulting perché noi andiamo a ristrutturare il business a 360 gradi a un prezzo ridicolo lo facciamo per rompere il mercato e per rompere la testa di chi è il nostro competitor perché se a lui fino ad oggi vendeva dei servizi più scarsi al triplo del prezzo vede un competitor che fa i servizi a un terzo del prezzo e servizi enormemente più performanti lui si demoralizza lui va proprio dove dicevi te va giù e mentre lui va giù prendiamo terreno ok c'è qualcuno diciamo di imprenditore che vi dà molta ispirazione che conoscete cioè non il classico Bill Gates o cioè io ti devo dire non lo conosco purtroppo non avrò modo di conoscerlo perché non c'è più ma uno degli imprenditori che a me ha dato più ispirazione è Leonardo del Vecchio Leonardo del Vecchio perché è italiano perché ha fatto un miracolo in Italia perché ha avuto le palle di tornare passati gli 80 anni perché ha saputo mettersi un braccio destro e crescerlo perché Leonardo del Vecchio l'esplosione più grande che ha fatto è dall'ultimo ritorno quando ha messo Francesco accanto a lui e Francesco ha aiutato del Vecchio a diventare il re degli occhiali che poi è diventato un'azienda che oggi vale 70 milianti per darvi un'idea di quanti sono 70 miliardi perché le persone questi numeri sono come sono astratti se te ogni mattina ti alzi e bruci un milione di euro non di finire fin ti muovi te in un anno ne bruci 365 in 10 anni ne bruci 3600 in 100 anni ne bruci 36 miliardi tu hai 200 anni dove ogni mattina che Cristo ha messo in terra ti alzi e bruci un milione di euro questo è cosa vuol dire una ricchezza 70 miliardi ed è una persona che nasce dal niente perché era un orfano si è fatto da solo ha lavorato aveva le qualità mie e di Frank in un'unica persona e lo ha portato dove l'ha portato quindi se io ti devo dire una persona che stimo enormemente ti dico Leonardo del Vecchio al giorno d'oggi persone di quella pasta e di quella capacità di andare oltre ogni problema non mi è capitato di conoscere non dico che non esista ma ad oggi non mi è capitato di conoscere come frontman se voi due se volete scalare con le palestre a livello europeo pensi di metterci sempre tu e tu la faccia dato che comunque voi siete italiani se dovete aprire per esempio le palestre che ne so in Francia o pensate a mettere un altro frontman è una domanda che oppure fra vent'anni sarei sempre tu il frontman sì saremo sempre noi sempre voi mi hai detto palestre in faccia che c'è una promo di la verità non ce ne pensate a questa roba di la verità per noi è scontato che siamo noi è un non problema se tu mi dici devi aprire palestre in Sud Corea guarda il livello mondiale come cambia perché Francia Italia Spagna Portogallo siamo tutti simili devi aprire palestre in Sud Corea la Sud Corea ha dei valori diversi da noi è un mondo parallelo quindi prima di fare un attacco sul mondo che non conosco come un generale devo studiare il mondo cosa ne pensano loro delle persone decise delle persone esagerate è come in Italia che a parole ti prendono in giro ma a fatti pagano e ti continuano a vedere o lì rieschi di bruciarti il tuo target io come sempre prima di muovere guerra studio quindi se tu mi dici in America apri in America ti dai senza ombre di dubbio mi posso già immaginare come mi dovrei ridurre per il bandolino una pizza a mano mi la batti nel muso stereotipo italiano pieno come prima palestra in Italia pace all'anima pace all'anima di chiunque facciamo così ti faresti sempre un personal brand personal lo cambi lo personalizzi in base alla zona sono due domande diverse frontman e brand sono due domande diverse sono due domande separate vedi non ce la faccio più ho il fuoco nelle braccia siamo a casa alla fine perché tu l'obiettivo è la quotazione in borsa no l'obiettivo è lasciare un segno enorme la quotazione in borsa è uno strumento l'obiettivo è la storia ok però per arrivare a fare la quotazione in borsa è un tuo obiettivo per arrivare a far la storia si può fare con un personal brand o per forza dovrei passare ad un brand avete un sacco di seghe mentali sul fatto che un personal brand non si possa quotare in borsa la borsa paga i numeri dell'azienda soprattutto nel mondo italiano non pagano tanto il divenire dell'azienda pagano i numeri che hai porti a bilancio ok a livello borsistico gli interessa quante bidai quanto fatturi quanto sono in ordine i conti e quanto riesci a mettere del margin su quello che vendi Giorgio Armani se muore domani mi auguro di no perché è una persona che stimo tantissimo è un personal brand infattualmente è un personal brand e il suo brand perderebbe valore nel non aver più Giorgio esatto ma non è che per questo le aziende non lo farebbero quotare non vedrebbero l'ora di quotare Armani certo e come Giorgio tutti non è quotato? no è privato Giorgio Armani e sai chi c'è dentro Giorgio Armani? perfetto Giorgio Armani è assolutamente un riferimento a livello mondiale per la voglia che ha portato in Italia di rimanere nel proprietario Giorgio Armani quello che ti dicevo prima c'è una persona che potrebbe alzare la mano vendere per 7 8 9 miliardi levarsi dai foglioni e fare la vita che tutti sognano ma non di ne frega niente lui ci vuole rimanere nella storia e ci rimarrà questo voglio dirvi tra 200 anni quando parleranno dell'imprenditoria perché ragazzi la storia che studieranno tra 200 anni non è un tanto interessante dal punto di vista storico non ci sono più tante guerre che portano conquiste ci sono guerre locali come quelle oggi in Israele ci sono conflitti come la guerra fredda ma tra 200 anni si studieranno i grandi imprenditori perché tra 200 anni ci saranno sempre più ricchezze concentrate e se uno non va lassù va laggiù non ci sarà da cosa è dato questa cosa la tecnologia concentra la ricchezza ma non è da oggi la tecnologia concentra la ricchezza in ogni momento storico quando è stato inventato il grammofono quindi quello per registrare la voce delle persone sono finite a casa decine di migliaia di cantanti perché se prima avevi una taverna e volevi un po' di musica volevi un sottofondo alla gente che mangiasse dovevi pagare un cantante locale per cantare giusto quando è stato inventato il grammofono questi cantanti non sono più stati chiamati nessuno hanno perso la vera assolutamente la cantante del 1800 più pagata era una cantante lirica Bernadette il cognome non lo ricordo cantante lirica che guadagnava l'equivalente oggi di un paio di milioni l'anno e rempiva teatri tanto che a Londra i due teatri maggiori se l'erano così combattuta che lei doveva andare entrambi per tenerti felici ma nonostante questo guadagnava un paio di milioni al massimo dell'equivalente attuale che è quello che guadagna un imprenditore locale mentre ad oggi la cantante più pagata è Telo Swift che guadagna 600 milioni quest'anno ma qual è la differenza tra Bernadette e Telo Swift come canta? no la differenza è che oggi Telo Swift mette in leva le sue competenze la sua capacità di comunicare di emozionare di stare sul palco di essere comunicativa e di entrare nella mente delle persone con tutti i mezzi moderni e le tecnologie moderne che mettono in leva esponenzialmente questa sua caratteristica è paradossalmente l'invenzione del grammofono che è la Telo esatto e che è la Messe esatto oggi un A Telo Swift sta togliendo lavoro a decine di migliaia di cantanti locali che non se li caga più nessuno quindi ogni lavoro oggi noi lo vediamo nei cantanti ma domani sarà anche nel tuo lavoro sarà sempre più messo in leva oggi tu puoi fare concorrenza a un personal trainer di Trento 15 anni fa non potevi 15 anni fa un personal trainer di Trento magari non era un fenomeno ma lavorava di più perché aveva solo come competitor il personal trainer di Trento quindi lui aveva un business che vedeva tutti i suoi competitor in 10 km oggi invece viviamo in una società complessa che ha complicato quello che è il competitor ora diciamo la concorrenza a livello italiano ma lo sai che dal prossimo anno youtube con l'intelligenza artificiale avrà la possibilità di avere la traduzione istantanea vocale in tutte le lingue del mondo questo sarà molto forte in Italia perché in Italia noi l'inglese la persona media italiana lo schifa quindi sarà una concorrenza a livello mondiale è già diverso e io non vedo tanti italiani che scaderanno in America quanto tanti americani che distruggeranno con il competitor italiani perché ci sono alcuni business tipo il business di Mr. Beast di fare dei video assurdi che non traducibili in italiano lui ha già fatto il suo profilo l'hanno già industrializzato no ma deve industrializzare c'è una persona che li traduce tutto spagnolo nei paesi dove doveva andare se già in Brasile perché ma anche in italiano anche in italiano anche in italiano ci sono già dei canali che ce l'hanno taglia fuori e ce l'ha anche i canali più fatti al mondo è da migliorare però ce l'hanno già è orribile YouTube ha fatto un test però ce l'hanno già io ritengo che questo cambierà veramente poco perché devi ragionare sempre che tu devi parlare in maniera corretta a un target più specifico è difficile parlare allo stesso modo a un americano a un italiano devi capire a chi stai parlando e capire come entrare nella sua mente praticamente un consiglio alimentare credo io all'italiano non è capibile dall'americano perché hanno una cultura alimentare totalmente diversa la gente non si fida di te per il consiglio alimentare la gente si fida di te per ciò che trasmetti loro tramite emozioni e si conferma nel pagarti tramite razionalità ma parte tutto dall'emozione e dall'entrare in vibrazione con la persona nel momento in cui te parli a una persona che dall'altra parte del mondo ha valori diversi vita diversa mentalità diversa non riuscirai a creare un unico prodotto che si vende in america in italia dovrai magari un italiano che è ignorante non sa l'inglese non lo parla fluentemente potrà utilizzare questi aiuti per andare sul mercato americano ma deve essere volontariamente specificatamente per il mercato americano non esisterà a mio avviso il formatore mondiale esatto anche perché oggi tutti le persone che si formano sanno l'inglese la maggioranza di loro eppure non è che tutti si formano in america perché tanti imprenditori o comunque tante persone che si formano preferiscono il formatore locale è assolutamente più scarso perché non vogliono non si rivedono in ciò che dice l'americano poi io quello che ripeto in continuazione è che quello che spiegano in america tantissime cose funzionano solo in america è vero se tu prendi un Sam Owens un un Gazi tu prendi qualsiasi formatore americano e applichi ciecamente ciò che ti dice non funziona un cazzo il target italiano è totalmente diverso perché tu devi parti da tre punti più freddo di un target il target italiano parte con tu mi vuoi inculare ora tu mi dimostri a me che non mi vuoi inculare perché io parto prevenuto che tu mi inculerai il target americano parte con una spendibilità diversa parte con un'idea diversa parte con una carta di credito da 20.000 dollari di spendibilità al mese contro una da 1.500 ti scontri ti scontri con un metodo di pensiero completamente diverso certo io ho un'ultima domanda che è più una curiosità poi non so se tu avevi qualche altra domanda mi sono chiesta diciamo in questi ultimi mesi periodi che comunque vi sto seguendo un po' di più il fatto è che vedo che comunque state aprendo tantissime palestre i costi comunque per aprire una palestra di quel calibro sicuramente non sono bassi assolutamente però i prezzi sono molto vantaggiosi rispetto a tante altre palestre che sono oscene in confronto che hanno spese di apertura sicuramente molto più basse rispetto alle vostre allo stesso tempo anche l'academy se non sbaglio come mi dicevi tu prima offre un servizio che è eccezionale e costa un cazzo e costa un cazzo quindi la mia domanda è come fate a rientrare diciamo in questi costi non è difficile rientrare in questi costi così grandi con questi prezzi e non è paura di finire sotto esatto così tanto vantaggiosi nella storia sono nate due persone è nato Alex Theory ed Harry Ford qualche cento anni prima ma se si ragiona cosa ha fatto Harry Ford è esattamente questa cosa Harry Ford persona un vero genio molto pratico ma un vero genio voleva portare a tutti i costi a tutti i costi l'auto alla portata di tutti e cosa ha fatto ha ristrutturato il settore dell'auto partendo dal settore della macelleria perché la catena di montaggio moderna del mondo automobilistico è stata si affettava il procinto è stata presa di ispirazione dalla macelleria in maniera opposta prima le auto come si facevano c'erano le varie postazioni arrivava il telaio e veniva montata tutta l'auto in quella postazione e c'era un operaio che sapeva montare tutta l'auto comunque tre quattro operai che si alternavano nelle varie fasi Harry Ford aveva il cruccio di dover portare la produzione automobilistica a livelli estremi quindi a produrre milioni di auto e così non erano producibili milioni di auto va a visitare questo stabilimento di macelleria non per prendere spunto perché era di un suo amico per caso e vede la carcassa della mucca entrare e vede ogni postazione che toglie sempre il solito pezzo di carne e il genio dice cazzo se ogni postazione toglie il solito pezzo di carne ogni postazione può montare il solito pezzo nelle auto e quindi crea la catena di montaggio moderna che prima non esisteva questa cosa cosa ha creato un vantaggio sistemico che gli permetta ad eri ford di vendere la ford model t ad un prezzo estremamente più basso di tutte le altre ma non è che gli altri sono stronzi perché eri ford la ford model t la vendeva poco loro la vendevano tanto il vantaggio di eri ford era il sistema il vantaggio di teori holding è il sistema come mcdonald se tu vuoi andare lassù devi avere un sistema e il tuo sistema deve tornare una model t costava molto meno che le altre auto e sembrava impossibile per eri ford guadagnare vendendo le auto a quel prezzo eri ford in 15 anni era l'uomo più ricco il mondo poi ha fatto è il sistema che ti porta a poter realizzare ciò che gli altri ritengono irrealizzabili ok diciamo che abbiamo detto tutto è arrivato il momento della sfida la sfida in cosa consiste avete a scelta due esercizi anche se per Alex che si allina in realtà non c'è scelta perché decidiamo noi assolutamente dipende cosa ho fatto stamani e la cosa bella è che siete in due quindi si può fare faccia a faccia più bello rispetto a quando c'è un ospite penso sia tremendo ciò che sta per avvenire sì anch'io più continui peggio è quindi la sfida è o il wall seat che è la famosa seggiolina al muro dove state fermi e si cronometra chi ci sta di più o i piegamenti sulle braccia uno di fronte all'altro chi ne fa di più considerando che sono che sono fissi potete giocare su wall seat ok allora se hai paura dei piegamenti sulle braccia considera che non ti sfidi con lui ti sfidi con tutti gli altri ospiti del podcast sarò il più scarso vai capito ti sfidi con tutti gli altri ospiti del podcast che non saranno tutti allenati come Alex allora io voglio chiedere a Alex solitamente quanti piegamenti secondo te potresti riuscire a fare allora passiamo da un presupposto rispetto a ai crossfitter sono 106 kg quindi non è proprio il mio esercizio non abbiamo intervistato crossfitter però c'è un imprenditore che ti dico che ne ha fatti tanti ma guarda io non ritengo di farmi così tanti ne ha fatti tanti e ha quasi 60 anni non è il mio se tu mi dicessi ci mettiamo a fare spinte sui manubri secondo me lì la vico ma ce la giocchiamo quindi oggi ti tocca ce la giocchiamo nel senso magari arriva arriva il tuo collaboratore che dicevi prima arriva il ragazzo che dicevi prima e lui con 52 kg ci scalda però tra gli imprenditori me la gioco a livello di piegamenti secondo me no non me la gioco sono troppo pesante sono quelli sport dove non puoi pesare più di 75-80 kg però non si vince niente peccato non accade è solo gogliardica ci sta ci sta per fare una risata non frank per fare una risata non frank frank a lei la sedia che io sono totalmente fuori fuori possibilità per la sedia dopo gli squat di ieri ma dobbiamo fare il solito o possiamo fare le diverse scendi tu però era più bello dato che siete in due era più figo allora se dobbiamo farle in due dobbiamo fare il piegamento perché tu non puoi fare World City no World City è infattibile non partecipo a questo gioco dai piegamenti dai li puoi fare in giro dai il World City l'abbiamo fatti fare soltanto no dai facevi il Man Physique dai no facciamo il Man Physique perché ho 69 kg farò il farò i piegamenti va bene ok e sarei andato il World City perché lì potevo giocare non c'è di più perché tanto è solo quando decisi di non sentire le gambe che bruciano poco scozzo perché ti dico che tra gli intervistati avevamo una donna che non si allena vedi io sono furbo vai su World City che vinci è un uomo over 60 imprenditore anche lui però che anche lui non si allena niente dai sarebbe da portare a un livello successivo con un World City a una gamba sola perché la situazione attuale lo richiederebbe vado di piegamenti dai piegamenti ok ok appiazzatevi che noi vi facciamo da motivatori quindi ragazzi intanto facciamo la chiusura e vi lascio alla sfida che faremo poco dopo vi ringrazio per aver visto l'episodio ringraziamo Alex e Frank per la sfidabilità ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella per vedere i prossimi episodi quindi grazie ragazzi veramente essere stati qua grazie a voi e adesso la sfida adesso la sfida non ridiamo no per niente oddio che statica bene ci sei? quindi parte la sfida tra 3 2 1 via dai contatele contatele voi contatele certo che sta andando a spiegare sta superando respira tranquillamente resta bene lo sai? ora battiamo e che pesa può usare è un'altra 25 25 dai Alex respira respira dai Frank dai Frank un'altra 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 21 22 22 24